Benvenuti a Mappamundi, oggi continuiamo a parlare di Polonia e dell'ultimo volume di Limes, la Polonia imperiale che trovate in edicola, liberia online e anzi c'è un'ottima offerta a metà prezzo dell'abbonamento digitale annuale al sito che vi consente di leggere anche la rivista in pdf, trovate tutte le informazioni in descrizione. Allora con me c'è Fabrizio Maronta di Limes, ciao Fabrizio. Ciao Alfonso, ben trovati. Tu ti sei occupato in maniera particolare di questo volume, sveliamo un po' come è anche la nostra organizzazione, insomma c'è sempre ovviamente la direzione di Caracciolo ma c'è sempre una persona che si occupa di un singolo volume anche per mesi, perché per fare un volume del genere, no Fabrizio, ci vogliono mesi insomma. Sì, ci vogliono mesi anche e soprattutto perché trovare gli autori locali comporta chiaramente un lavoro di talent scouting, mettiamola così, di contatti e via dicendo. Poi ne parliamo anche guardando anche delle foto, ma intanto insomma introduciamo il tema. Allora la Polonia è diventata una protagonista importante? Sì, la Polonia non è in realtà una protagonista da oggi, forse nemmeno da ieri, lo è sicuramente dal 2014-15, cioè da quando Putin invade la Crimea, l'annette via referendum alla Russia e comincia a contendere il Donbass in modo sanguinoso. Tuttavia la Polonia è sicuramente una protagonista dichiarata, visibile e assolutamente centrale dal 24 febbraio dell'anno scorso, cioè da quando inizia per l'appunto l'invasione su vasta scala dell'Ucraina da parte della Russia. Perché con questa guerra la Polonia diventa di fatto il retroterra logistico fondamentale, inaggirabile per il rifornimento all'Ucraina. Il stretto coordinamento come poi vedremo con gli americani. Eh sì, eh sì, e insomma, è come dire, la parte, abbiamo parlato anche in altre trasmissioni, il fronte più estremista di questa guerra, anche quello che vuole maggiormente, non solo la sconfitta della Russia, ma anche diciamo in alcuni ambienti la disgregazione della Russia stessa. Sì, la guerra come occasione storica di risolvere dal punto di vista, parliamo polacco, il problema della Russia, cioè di questa potenza minacciosa, revisionistica e territorialmente insaziabile dal loro punto di vista, per l'appunto, che quindi non si fermerà all'Ucraina e vuole ripristinare una sfera di influenza, se non di dominio proprio diretto, anche per l'appunto sui paesi dell'ex patto di Varsavia. Questo è quindi, diciamo, in estrema sintesi la visione che di questa Russia, non del regime di Putin, ma della Russia in quanto tale, specialmente, ma non necessariamente solo con Putin alla testa, si ha in un paese come la Polonia, per l'appunto. E allora, tu hai studiato, insomma, la Polonia, proprio per cercare di capire qual è la loro visione, no? È proprio uno dei nostri elementi indispensabili dell'analisi geopolitica, sei stato lì, hai fatto, appunto, come dicevi, tale scout, infatti in questo volume, come capita spesso poi all'IMES, abbiamo tantissimi autori polacchi o comunque di esperti di Polonia, della regione, che affrontano la questione da vari punti di vista e quindi, insomma, nelle 300 pagine di vista avrete davvero un panorama anche di punti di vista e di opinioni. Però ecco, allora, ragioniamo un po' su questa identità polacca, no? Su questo fattore umano polacco che è, come dire, è anche il frutto della storia del paese degli ultimi secoli e che vorremmo subito mostrare due foto che tu hai anche utilizzato in una lezione alla scuola di LIMES, ricordiamo la scuola di LIMES, adesso inizia l'anno accademico, tra virgolette, anche se questa definizione non piacerebbe a Caracciolo, del 2023. L'anno scolastico. L'anno scolastico, sì, quindi, insomma, sempre un elemento importante del mondo di LIMES, la scuola di LIMES, anche lì sul sito tutte le informazioni. Allora, qua abbiamo due foto simbolo, due immagini simbolo di due luoghi importanti per la Polonia, perché? Sì, sono entrambi edifici che si trovano a Varsavia. Paradossalmente il castello, cioè questo edificio che vedete in rosso, è il più giovane dei due, mentre quell'altro in stile sovietico, ma guardate bene con un vago richiamo estetico all'Empire State Building, e questo perché a Stalin l'Empire State Building piaceva tanto, quindi per far costruire quel palazzo in realtà pare che mandò una delegazione di architetti in incognito a New York a studiarlo per bene da vicino, è invece opera per l'appunto dello stalinismo, nell'immediato dopoguerra. Il castello era la residenza storica, quindi l'edificio rosso a Varsavia, ripeto, dei sovrani polacchi, specialmente durante l'epoca d'oro della Polonia, quella del Commonwealth o dell'Unione polacco-lituana, che per un paio di secoli unì per l'appunto la Polonia e la Lituania nell'espressione più vasta geograficamente che lo Stato polacco abbia mai conosciuto, fu distrutto durante la Seconda Guerra Mondiale da bombardamenti e rimase in macerie praticamente fino agli anni settanta del Novecento, quando poi fu ricostruito, perché così tardi? Perché per l'appunto era un simbolo di una Polonia indipendente, fiera e fondamentalmente antirussa, che i sovietici non volevano per l'appunto fosse ricordata e ripristinata nella memoria storica del paese. Il palazzo invece ha una storia curiosa, nel senso che leggenda vuole che alla fine della Seconda Guerra Mondiale questo palazzo sorge nella zona oggi non propriamente centrale di Varsavia, ma comunque ormai baricentrica, nel senso che il quartiere finanziario, quello dei grattacieli, un po' la downtown di Varsavia, è anche il punto in cui Varsavia si mostra più moderna, più occidentale, più all'avanguardia anche dal punto di vista architettonico e sorge non lontano dal ghetto di Varsavia, noto storicamente per la rivolta repressa nel sangue, dai tedeschi durante l'occupazione, durante la guerra e fu il primo edificio ad essere enorme, ad essere ricostruito dopo la guerra. Quindi immaginate, se andate a vedere le foto del tempo, c'è praticamente una città intorno di fatto distrutta, con questo edificio che all'inizio degli anni 50 sta sorgendo per l'appunto e fu costruito in brevissimo tempo. Leggenda vuole che alla fine della guerra Stalin chiedesse alle autorità municipali di Varsavia, se volessero la metropolitana o l'edificio della cultura del popolo, per l'appunto, la casa del popolo e il pare, diciamo che così almeno si racconta in Polonia, a Varsavia in particolar modo, che la richiesta delle autorità polacche, in particolar modo municipali, fosse la metropolitana e Stalin ne fece il palazzo, perché innanzitutto era un simbolo tangibile del potere sovietico e poi perché la metropolitana dà la possibilità di fare la guerriglia, mentre invece in caso di guerra con la Nato la Polonia sarebbe stato un campo di battaglia e diciamo Stalin non voleva facilitare la possibilità per i polacchi in funzione antisovietica, anche per le truppe Nato, di fare diciamo guerriglia sotterranea contro l'Unione Sovietica. Quindi diciamo questi due edifici sono un po' un simbolo appunto del passato da cui la Polonia si vuole affrancare. L'edificio, la casa del popolo che oggi è l'edificio della scienza, ospita del museo della scienza e della tecnica, perché simbolo tangibile del potere sovietico, i polacchi dicono che la vista più bella che si ha di quel palazzo è da dentro, perché si ha la vista della città e non si vede il palazzo. In realtà poi paradossalmente il monumento di Varzavia è più fotografato, il che tra l'altro è anche emblematico del fatto che questo è un passato che in qualche modo stenta a passare. Il castello invece appunto è il simbolo della Polonia che vuole tornare, per l'appunto, ma la sua travagliata storia, il fatto che sia stata in macerie fino agli anni settanta, è invece per l'appunto il simbolo di quella sovranità conculcata che invece la Polonia vuole in questo caso mantenere, avendola ritrovata. Ci racconta tanto della Polonia attuale questo, perché intanto, come dire, i 50 anni del patto di Varsavia e della Polonia e della Provenzione popolare sono stati vissuti come dominazione sovietica, mi pare di capire. E poi c'è il passato del patto Motto-Ribbentroff, quindi la divisione prima all'inizio della seconda guerra mondiale, ma poi le tre spartizioni precedenti. Quindi questo è profondamente radicato nella memoria e nell'identità polacca. Ma quello che meno invece conosciamo e sappiamo della Polonia, insomma qua abbiamo varie carte. Fermiamoci un attimo su questa, perché è interessante. Dunque questo è il, lo dice la Didascalia stessa, o meglio il titolo della mappa in questo caso, lo spostamento della Polonia verso ovest nel 1945, perché ovviamente nel 1945 il ridisegno dei confini polacchi sulla base degli equilibri di forza raggiunti nella corsa a Berlino da parte dell'Armata Rossa, quindi prima del 1945, fanno sì che la Polonia fondamentalmente perda territori a est a vantaggio dell'attuale Stato ucraino e li guadagna a ovest a svantaggio invece della Bielorussia chiaramente e li guadagna a ovest a svantaggio invece del Reich, cioè di quello che era stato il Reich tedesco. Ora, questo spostamento verso ovest è interessante perché è un dato territoriale a cui però durante tutta la guerra fredda non ha fatto, dal punto di vista polacco, non ha fatto seguito un dato invece geopolitico. Cioè la Polonia si è ritrovata alla fine della Seconda Guerra Mondiale a essere uno Stato territorialmente più occidentale, ma relegato a est della Cortina di Ferro. E questo è molto interessante letto nella chiave odierna perché se oggi voi chiedete a un polacco un po' di qualsiasi estrazione devo dire sociale, socio-economica, di definire la collocazione del proprio paese in Europa, lui, lei, insomma ti dirà, loro ti diranno che loro sono Europa centrale, non Europa dell'est. A dire quindi che in realtà con l'89 loro hanno, e con la transizionale economia di mercato e l'ingresso nell'Unione Europea, nella Nato e tutto quanto, loro si sono guadagnati a pieno titolo il diritto di essere considerati parte della sfera occidentale che poi dal loro punto di vista è quella americano-centrica. E quindi conseguentemente alla domanda ok, ma esiste un'Europa dell'est? Loro ti dicono sì, certo che esiste. Qual è? L'Ucraina, la Bielorussia, la Moldavia. E questo coincide con appunto il concetto forgiato nei secoli dalla Polonia di considerarsi occidente e antemurale, anzi dell'Occidente contro la Russia, quindi questo corrisponde a questo spostamento geopolitico per cui si pensano di essere centro dell'Europa come la Germania o… Questo è interessante. Dunque, mettiamola così, tra uno dei fatti territoriali ineludibili per la Polonia, che maggiormente ha concorso, soprattutto dall'unificazione tedesca nell'870, a condizionare maggiormente la psicologia polacca e anche la visione strategica polacca è l'essere stretti per l'appunto tra la Germania e la Russia. Due potenze, diciamo, potenzialmente, non solo potenzialmente, anche di fatto minacciose durante il corso della storia. di fatto la Germania è il male minore, quantomeno dall'89 in poi. I polacchi videro con estrema preoccupazione ancora oggi, chi c'era te lo dice, la rionificazione tedesca, però sul timore per la Germania fa premio il timore per la Russia, che poi gli ultimi eventi hanno contribuito ulteriormente ad accentuare. Quindi, in questo momento, il problema dei polacchi con i tedeschi non è tanto il fatto che siano minacciosi, quanto il fatto che sia una delusione. Cioè, a dire che il fatto che Schröder prima, Merkel poi, hanno cementato il legame con la Russia, che per loro è assolutamente inaccettabile, e poi che Scholz adesso, l'attuale cancelliere, si sia mostrato così riluttante a buttarsi anima e corpo nel sostegno, non solo finanziario, ma anche e soprattutto militare, all'Ucraina. Questo per loro è un assoluto tradimento tedesco di quella leadership, che loro sarebbero ormai disposti a riconoscere la Germania, ma che vedono che la Germania non riesce ad esercitare. Ciò detto, poi, loro hanno chiaramente tantissimi legami di natura economica e industriale con la Germania, e questa è una realtà che chiaramente riconoscono e che è fondamentale anche per la loro economia e per le loro chance, anche banalmente strategiche, perché se possono in questo momento comprare armi dall'America è anche perché economicamente se lo possono permettere. E questo però presuppone il legame economico con la Germania senza cui... E questo però non gli ha impedito di chiedere i danni di guerra, anzi ricordo che nel volume Agnese Rossi appunto ricostruisce la richiesta di riparazioni, ma di questo abbiamo parlato anche nella puntata con Caraccio del rapporto con la Germania, quindi rimando a quella. E c'è una componente elettorale, in Polonia si voterà, tra non molto, e questo discorso delle riparazioni è anche una carta elettorale, quindi c'è sicuramente un progresso storico, diciamo ci sono delle ragioni profonde per questa richiesta e in generale per questo dibattito, ma c'è anche una ragione prettamente elettorale. E allora intanto sulla Polonia che si sposta e diventa centro, segnalo l'articolo di Moraschi appunto dal volume, però allora il tema con la Germania in realtà pone un tema più ampio nei confronti dell'Europa, sia nell'ambito dell'Unione Europea che nell'ambito della Nato e ovviamente gli americani, quello ne parliamo dopo, però cambia, allora intanto la postura della Polonia in Europa, banalmente sui nostri media occidentali la Polonia fino a qualche anno fa era vista un po', non dico un paria dell'Europa, ma insomma periferia se non altro dell'Europa, anzi vista anche con molto sospetto per le politiche interne. Ricordiamo Chirac e anche con un certo senso di superiorità, ricordiamo Chirac, presidente francese che fondamentalmente disse ai polacchi statevi zitti e state al vostro posto, la formula era avete perso un'ottima occasione per tacere, quando denunciavano il pericolo russo, parliamo appunto di oltre 15 anni fa, o anche il fatto per esempio che in Gran Bretagna ancora l'idraulico polacco sia ancora per esempio uno stereotipo appunto del povero immigrato. Ovviamente anche in Italia c'è il ricordo dei polacchi, a Roma in particolare durante il papato di Voetivo eccetera, però adesso la situazione è cambiata, anzi traspare anche dagli articoli dei polacchi di questo volume una certa, non dico arroganza, ma un forte orgoglio che questo fatto di essere considerati un po' secondario, periferia, insomma proprio non si si addice diciamo al polacco di oggi, quindi questo come cambiano i rapporti nell'ambito dell'Europa? Beh, se vogliamo usare un'immagine così, visualizzare in maniera quasi grafica direi la situazione europea oggi, di cui la Polonia è in qualche modo corresponsabile e coprotagonista, in questo momento l'Europa è profondamente spaccata tra una sorta di centro-ovest, comprendente la Germania, l'Italia sicuramente, che questa guerra non solo la vive malissimo, ma soprattutto vivere malissimo ciò che questa guerra sta facendo alle relazioni euro-russe, quindi russo-europee, e un Est, Europa, che per ragioni storiche ovviamente comprensibili e che potremmo definire imperniato sicuramente sulla Polonia, in parte anche sui cosiddetti, sulle cosiddette repubbliche baltiche, Estonia, Lettoria e Lettoria, dico cosiddette perché curiosamente ci sono molti paesi che affacciano sul Baltico, però chissà perché solo quei tre paesi sono definiti paesi baltici, la stessa Polonia per certi aspetti è un paese baltico con Danzica, ci si affaccia, che invece appunto vede in questa guerra non solo ciò che è, cioè una guerra d'aggressione, quindi la necessità, la volontà di sostenere gli ucraini, ma anche per l'appunto un'occasione storica, forse irripetibile, di andare oltre il mero scopo difensivo dell'Ucraina e regolare i conti con una Russia che deve essere messa nella condizione di non nocere più. Come? Ecco, lo dicevi tu all'inizio, il problema fondamentale che un paese come la Polonia ha con la Russia è che dal loro punto di vista il russo è incorreggibile, cioè la Russia non fa la guerra in Ucraina e non dal loro punto di vista ambisce a obiettivi territoriali per un calcolo strategico di questo periodo e legato a determinate figure politiche. Il russo è antropologicamente imperialista e quindi è in senso proprio territoriale. Dal punto di vista polacco. Sì, stiamo parlando dal punto di vista polacco, ripeto. E quindi conseguentemente ne deriva dal loro punto di vista che l'unico modo di evitare un ricorrente ritorno di questo distruttivo imperialismo russo sia mettere oggettivamente la Russia nelle condizioni di non nocere. Il che vuol dire sconfiggerla militarmente, in maniera pesante, magari provocare un cambio di governo o comunque indebolirne le strutture statali e politiche e magari, sogno dei sogni, incubo invece per altri paesi, tra cui il nostro, la Germania e probabilmente anche gli Stati Uniti, sicuramente la Cina, provocare la frammentazione, la spaccatura della federazione russa, con quali esiti non si sa, perché l'esito migliore possibile di questa guerra è la fine della federazione russa come la conosciamo oggi, dal punto di vista polacco. Ora, il fatto è che questo fronte est, chiamiamolo così, quello per l'appunto di nuova integrazione, di recente integrazione della NATO e dell'Unione Europea e che oggi si trova in qualche modo in prima linea o meglio nell'immediata retrovia di questo conflitto in Ucraina, per tutto questo anno di guerra si è trovato allineato di fatto con negli Stati Uniti, nel senso che gli Stati Uniti chiaramente non hanno nella Russia una minaccia esistenziale come può essere percepita in Polonia o in Lituania, però chiaramente questa percezione della necessità per l'appunto di assestare un colpo alla Russia, anche se con moventi, diciamo, e per ragioni diverse, con percezioni diverse, è coincisa di fatto con la linea strategica in questo momento della Cosa Bianca. Ti faccio un attimo perché poi torniamo subito sugli Stati Uniti che è il prossimo argomento, ma volevo mostrare questa carta perché appunto nella concezione di oggi della Polonia riacquista un grandissimo valore il ricordo della confederazione polacco-lituana che vedete qui raffigurata, che appunto andava dal Baltico fino quasi al Mar Nero, sostanzialmente con buona parte delle regioni oggi ucraine o addirittura russe e addirittura del centro Europa. E qui c'è una ridizione, diciamo, moderna che ha vari retaggi poi nel progetto di Intermarium, ma di questo ne abbiamo parlato, ricordo, nella puntata con Lucio Caracciolo e vi rimando a questo. Però ecco, quindi c'è anche un'idea di Polonia, come dire, di creazione di un'area, mettiamola così, molto importante che può avere effetti in Europa e anche... Tant'è vero che i polacchi hanno capito perfettamente o quantomeno lo hanno capito sicuramente dall'inizio del Novecento e lo dicono anche oggi, almeno gli storici più aperti sotto questo punto di vista, che l'errore fondamentale della monarchia e delle aristocrazie polacche del tempo dell'Unione Polacco-Lituana fu quello di cercare l'espansione a est, cioè l'espansione terrestre verso i territori slavi, verso i territori russi. Quando invece per essere potenze, soprattutto per essere sicuri rispetto alla Russia, l'obiettivo doveva essere quello di avere il più ampio affaccio possibile al mare. Il Baltico, per l'appunto, il Mar Nero, da qui l'Intermarium, e in prospettiva l'Adriatico, da qui il Trimarium, per l'appunto. E qui vi mostro proprio la carta di Limes su Intermarium, ma vi rimando alla puntata con Caracciolo, perché entriamo nell'ultimo capitolo della nostra puntata e invece il rapporto che qui stavi già accennando con gli Stati Uniti. Ricordo che sul volume c'è un articolo di Federico Petroni proprio su questo. E allora, questa che a volte potrebbe sembrare tra quotanza, una Polonia che comincia anche a dettare legge, sicuramente nella regione centro-orientale, appunto abbiamo visto quel progetto Intermarium, ma anche nei confronti di Germania, Francia, insomma, ha una posizione di forza, deriva da questo asse molto forte con gli Stati Uniti. E allora, intanto, se ce lo descrivi e poi ci si spieghi, cioè, sono gli Stati Uniti che usano la Polonia o sono la Polonia che riesce a convincere gli Stati Uniti a portare sulle proprie posizioni? Ma, partendo da quest'ultima domanda, sicuramente in un'alleanza quasi mai c'è un uso unidirezionale di un alleato rispetto all'altro, quindi si usano a vicenda, anche se devo dire che sicuramente in quest'anno di guerra, ma probabilmente anche già prima, forse è più la Polonia che usa gli Stati Uniti. Vedremo ancora per quanto, anche e soprattutto, se alla Casa Bianca dovesse arrivare un Presidente meno determinato, di Biden, anche magari per ragioni anagrafiche e quindi, diciamo, di mondo in cui è cresciuto anche, diciamo, politicamente a perseguire un gioco a somma zero con la Russia. Certamente per gli Stati Uniti, o meglio, per i Polacchi l'alleanza con gli Stati Uniti ha una doppia valenza. Ha innanzitutto una valenza pratica. I Polacchi hanno praticamente svuotato il loro arsenale che era un arsenale risalente in gran parte alla guerra fredda, quindi insomma era tutta roba sovietica, sia armi leggere che armi pesanti, dandoli agli ucraini e facendo loro anche un favore, perché gli ucraini hanno familiarità con quelle armi e fino adesso hanno combattuto piuttosto bene con queste. E stanno sostituendo, quindi stanno riarmando in maniera, diciamo, più ampia, ma anche più moderna, quindi modernizzando e ampliando il loro arsenale, con armi soprattutto, sì in parte sudcoreane, ma soprattutto americane, armamenti tra l'altro di punta, cioè versioni di armi, per esempio gli HIMARS, i famosi lanciamissili, per esempio gli Abrams, che non tutti hanno nella Nato, che gli Stati Uniti non forniscono in quelle versioni così avanzate a tutti. Quindi, punto primo, dagli Stati Uniti i polacchi stanno fondamentalmente ricevendo la modernizzazione militare che per loro è fondamentale. Dagli Stati Uniti però ricevono anche l'appoggio, chiaramente militare, ma soprattutto anche politico diplomatico per perseguire una politica di contrapposizione frontale alla Russia, cosa che invece non avrebbero ricevuto dagli altri paesi europei, sicuramente non dai tedeschi, non dall'Italia, probabilmente nemmeno dalla Francia, la quale Francia sicuramente rispetto a Parigi e Berlino è in una posizione più antagonistica rispetto alla Russia, ma essendo un paese europeo ha più cautele rispetto agli Stati Uniti a perseguire uno sconto frontale comunque con un paese grande, armato anche di armi nucleari, che sta così vicino. Sotto questo profilo è bene ricordare che dal punto di vista polacco e non solo, devo dire, un po' di tutti i paesi di oltre Cortina che entrano nella Nato e nell'Unione Europea più o meno negli stessi anni, quindi tra la fine degli anni 90 e la prima metà degli anni 2000, la Nato e l'Unione Europea sono sempre stati visti come due facce della stessa medaglia, cioè dal punto di vista europeo, cioè dei paesi che erano già nelle organizzazioni europee che poi diventano l'Unione Europea con Maastricht, la Nato e l'Unione Europea sono due cose diverse. Dal loro punto di vista invece, per questi paesi dopo l'89, sono esattamente la stessa cosa, cioè la Nato è la garanzia militare americana, l'Unione Europea è la garanzia di stare nell'ordine americano, quindi nella sfera di alleanze americane, sotto il profilo economico e infrastrutturale, che non è però secondario, perché dal momento che questi paesi hanno dovuto reinventare le loro economie in senso capitalistico, stare nell'Unione Europea e quindi beneficiare di tutti i meccanismi di assistenza europei, ha voluto dire accelerare quella transizione, peraltro estremamente traumatica sotto il punto di vista sociale, verso l'economia capitalistica che li sgancia, che li ha sganciati ancora di più dalla Russia. Se infatti si vanno a vedere i progetti infrastrutturali associati al Trimarium, a questo progetto di centralità regionale della Polonia, si vedrà che sono fondamentalmente tutti i progetti di reti energetiche, viarie, ferroviarie, che hanno una dimensione prevalente nord-sud, con una propagine verso est nella misura in cui adesso i polacchi, dopo questa guerra, ambiscono a integrale anche quantomeno l'Ovest dell'Ucraina e magari anche la Moldavia, negli schemi di cooperazione di vicinato europei che in qualche modo strutturino un blocco, se non proprio europeo, nel senso con l'allargamento dell'Unione Europea, quantomeno filo europeo. Quindi mi pare di capire che non riconoscono la leadership franco-tedesca dell'Unione Europea perché il referente è sempre agli Stati Uniti, se gli Stati Uniti, e appunto sempre l'articolo di Federico Petroni, ricorda l'importanza della lobby polacca negli Stati Uniti, che numericamente non è tanto importante, però ha espresso figure molto importanti come quelle di Bresinski, ma non a caso poi un fiero antirusso. Assolutamente, Bresinski è stato forse tra le voci non solo dei polacchi in America, ma in generale delle elite americane più vehementemente antirusso anche durante la Guerra Fredda, tant'è vero che è sua la critica alla strategia di Kennan del contenimento, che lui in realtà diceva non dovesse limitarsi a contenere l'Unione Sovietica, ma addirittura a ricacciarla indietro, quindi da containment doveva trasformarsi in rollback, cioè in attiva contrapposizione all'Unione Sovietica anche dentro le sfere di influenza sovietiche, tra cui per l'appunto la Polonia o l'Afghanistan per esempio al tempo nella guerra del 79-80-88. Quindi, sì certo, però come giustamente ricorda Federico nel suo articolo, rispetto ad altre lobby che agiscono a Washington, quella polacca è una lobby in realtà che ha espresso figure di spicco singolarmente influenti, ma che non ha mai fatto valere tutto il suo peso demografico, 8-9 milioni di persone originariamente, che potevano essere fatti valere se non altro come blocco elettorale, da cui può dipendere l'elezione di un presidente per esempio, o comunque gli equilibri al congresso, questo perché? Perché fondamentalmente è stata sempre una presenza non molto organizzata, fin da subito inquadrata nelle strutture in realtà americane e nazionali di rappresentazione degli interessi, per esempio i sindacati. E poi è una componente nazionale, etnica, come vogliamo chiamarla, che si è americanizzata abbastanza in fretta e ha perso specificità perché fondamentalmente, a differenza per esempio degli ebrei, non ha una componente oltransista come gli ultraortodossi e poi lì fondamentale fu anche la presidenza Kennedy, perché un presidente chiaramente cattolico, fu fondamentale anche per convincere i polacchi in America che si sarebbero potuti americanizzare senza perdere la loro specificità. dell'articolo di Federico, ma anche di tutti gli altri articoli, perché vi ricordo insomma in 300 pagine ci sono un'infinità di spunti e di questioni che qui abbiamo solo accennato ma che potrete approfondire. Vi ricordo anche, se vi è piaciuta questa puntata, di iscrivervi al canale, di cliccare sulla campanella per ricevere le notifiche. Fabrizio, io ti ringrazio e alla prossima. Grazie a voi, alla prossima.